e la nostra giornata inizia così in una valle incantevole sopra Bergamo sono in compagnia anche del buon overvolt e abbiamo trovato giusto questo imbocco secondario che è una stradina con gli alberi tutti innevati e fantastica ora speriamo di trovare un bel prato per far partire i nostri GT Talon una neve che scende ma che giornata c'è Marco sei carico per il tuo primissimo volo oggi deve volare se non vola lui ho il Mavic però vola vola no magico magico non so come descriverlo guardate una cartolina giusto un po di salita per scaldarci un po e direi che questo prato barra valle va più più che bene abbiamo lo spazio necessario per farlo partire direi che questa baita perfetta come base d'appoggio abbiamo anche la panchina top cosa si vuole più dalla vita primo volo per il suo GT Talon Marco quando vuoi lo lancio vai sono prontissimo uno due tre vai no piano 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 volare vola vengo a darti una mano fai fai un po di passaggi qua attorno sì sì io resto qua in modalità poltoglio volare volare vola Marco prima impressioni prima impressioni allora è molto instabile però non mi ricordo qual è il testo del retorno tuo ma speriamo di non averne bisogno tocca a noi mentre Marco riprepara tutto per un altro test proviamo le Leon da 5.000 mAh vediamo un po dove ci portano gopro come primo volo niente niente male ora aspettiamo anche che il sole cali un attimo per avere una luce più cinematografica ma nel mentre direi proprio che ci meritiamo un panino buon appetito grazie grazie che lusso e soprattutto che panorama voi non lo vedete ma fantastico pausetta dopo mangiato direi di fare un voletto con il Mavic 2 Pro la luce sta sempre venendo più bella e cinematografica Ho anche montato un filtro ND16 Vediamo un po' la resa Da un po' che non volo col 2 Pro Ora mi serve lo smartphone per metterlo nel radiocomando Perché ultimamente sto utilizzando l'iPhone per fare vlog Scrivetemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti Grazie a tutti Ciao Ciao Che pace Luce perfetta e direi di finire con un volo sulle Alpi Dai 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 sono super gasato naturalmente aereo e via E vediamo di fare un lancio come si deve E ora su Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.